La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo L'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno, buon lunedì a tutti Ben trovati con l'appuntamento mattutino Con la nostra rassegna stampa Andiamo a sfogliare le pagine dei quotidiani In questa prima parte Partiamo con il mattino In apertura Ampio spazio dedicato Al campionato di Serie A Un campionato Ancora in bilico Dopo la gara di ieri sera Per la sfida Scudetto Juventus-Napoli Vince il Napoli All'Allianz Stadium Quindi in casa della Juventus 1-0 al novantesimo Gol del difensore Calidou Coulibaly E vediamo il titolo Che bellezza L'impresa a Torino Coulibaly Incorna la Juve Al novantesimo Sarri Stupendo Vincere qui Ma siamo ancora indietro Gli azzurri dominano Tutta la partita E vanno alla fine A meno uno Dai bianconeri In vetta Alla classifica La città In delirio Subito dopo il gol Di Coulibaly Infatti la città di Napoli E si è riunita In un attimo Per raggiungere Il capo di Chino E attendere lì L'arrivo Della squadra Continuiamo sempre Su questo argomento Il reportage Tra i mille garibaldini Azzurri Ora diventiamo Campioni Erano circa mille Infatti I tifosi Azzurri I tifosi napoletani All'Allianz Stadium E poi Il personaggio San Calidou E quel salto In paradiso La partita Di Coulibaly Che sale in cielo E fionda La palla Nella porta Di Buffon Alleluia E la sera Dei miracoli Ancora La partita La partita perfetta Questo per il punto E poi Le pagelle Insigne inesauribile Iguain Invece Per la Juventus Un fantasma Lasciamo Questo ampio spazio Dedicato al calcio Occupiamoci ora Degli altri temi Di attualità In particolare Parliamo della politica Si attende ancora Un governo Dopo le elezioni politiche Dello scorso 4 marzo Ma arriva la conferma Da parte della Lega E di Salvini Per Di non Di restare Compatto Con la coalizione Che lo ha portato Alla vittoria Quindi con il centrodestra Salvini No a Di Maio E ora dovrebbe toccare A Fico Per l'incarico Esplorativo Il leghista Resto con Berlusconi Oggi l'incarico Per provare Con il PD Il commento La parabola Dei due forni Che restano Sempre aperti Continuiamo La polemica Stato mafia Di Matteo Accusa Il CSM L'ANM Il PM Mai difesi Dagli attacchi E poi L'analisi Le sentenze Magistrati Che sconfinano In politica Di taglio basso Si parla ancora Dei casi di bullismo Dopo l'ennesimo caso Scoperto a Lecce Di un ragazzino Picchiato Da un compagno Di classe Con il video Che ha raggiunto La famiglia Del ragazzo Vediamo Bullismo Il coraggio Di uscire dal gregge Lecce Umiliato E picchiato In classe E' stato un compagno A mandare il video Ai genitori Questa è la prima pagina Del mattino nazionale Andiamo avanti Ora andiamo ad approfondire Alcuni di questi temi Partendo dalla politica Ieri Le elezioni regionali In Molise Ancora Non si conoscono bene I risultati Perché lo spoglio E' partito Nella nottata Vediamo Il titolo Perché intanto Insomma Il mattino Comunque Ne parla Vediamo Molise Il centrodestra Ci prova Nei primi exit poll Sembrava appunto Che il centrodestra Era avanti Per quanto riguarda Le elezioni Ma i 5 stelle Puntano al colpaccio Regionali Spoglio nella notte Affluenza In calo Si ferma Al 52% Dopo un inizio In mattinata Era stata Un'affluenza Boom Nei seggi Del Molise Poi a un certo punto C'è stata La brusca frenata Che ha portato Quindi al calo Dell'affluenza A fine giornata Vediamo Le polemiche Le politiche I grillini Cercano di bissare Il risultato eccezionale Del 4 marzo Al 44,7% Ottenuto In Molise Andiamo Di taglio basso Sanità commissariata E bilancio in rosso Spenti riflettori La sfida Sarà Il rilancio Il candidato Di centrodestra E di origine napoletane Il grillino Laureato Alla Van Vitelli Le cliniche Con l'uomo Del centrodestra Anche il patron Dei centri privati Andiamo avanti Sempre con la politica Nella pagina successiva Per quanto riguarda Invece questa volta Il governo Nessun passo indietro Da parte di Matteo Salvini Che resta fermo Nelle sue decisioni Di far Di continuare Di proseguire Il suo percorso Per il governo Con Forza Italia E Fratelli d'Italia Quindi con Il centrodestra Vediamo In retroscena Non passo Con un'altra squadra Queste le parole Di Matteo Salvini Da Salvini Niente segnali A Di Maio E resta Il no A Luigi Premier E scatta La tregua Con Berlusconi Poi vediamo Ancora Pronto Per il brindisi Salvini e Zaia Pronti a stappare La bottiglia Si vota in Molise Poi in Friuli Chi vota La Lega Sceglie il buon governo Ancora il seggio rosa A Campobasso Le quote rosa In sezione Vincono 6-0 Di Azzurro Non è stato Nominato Nessuno E poi Il sito In tilt A causa Dei troppi accessi Per seguire L'affluenza È andato subito In tilt Il sito Della regione Molise Appoggiato In serata Altrove Di taglio Basso L'esodo Dei giovani Ha scandito Gli ultimi decenni Un'autentica fuga Che ha ulteriormente Reso in influente Il peso politico Del territorio Questo per la politica Andiamo avanti Andiamo nelle pagine Interne Sempre per il primo piano Arriva l'ultimo rapporto Di Eurostat Ancora una volta Si vede Un'Italia divisa Dal centro Al sud Dal punto di vista Economico Vediamo infatti Il titolo Disuguaglianze Il record Dell'Italia Nell'Unione Europea La crisi ha tolto A chi aveva meno I redditi Del 10% Poveri Povero Scesi Dal 2,6 All'1,8% E intanto Tagliani Lancia Piano Sud Da 20 miliardi Lasciamo anche Questa pagina Andiamo avanti Andiamo ora invece Sul mattino Di Salerno Vediamo Quali sono le principali Notizie che interessano Salerno E la nostra provincia In apertura Si parla Della Movida Nel centro storico Di Salerno Che dal mattino Di Salerno Viene definito Centro storico Prigioniero Invasione selvaggia Di sedie E tavolini Residenti Bloccano Persino Le ambulanze Cittadini in rivolta Dopo un weekend Di passione SOS A comune Vigili Pubblica Incolumità A rischio E poi Regole e controlli Rivoluzione Via Roma Tutti uguali Ideors Dei locali Il caso Lucidartista Le delibere Della Corte Dei Conti Andiamo a centro pagina Si attende La conferma Sulle bandiere blu Che dovrebbero Essere confermate Tutte quelle Già rilasciate Lo scorso anno Per i vestiti Rilasciati Alle spiagge Nello scorso anno Però c'è In bilico Capaccio Vediamo Bandiere blu Capaccio In bilico Per i dischetti Iniziato il conto Alla rovescia Nell'assegnazione Delle bandiere blu 2018 Nella prima decada Di maggio La FEE Svellerà Le località italiane Premiate Con il vestillo Assegnato ogni anno Per la qualità Delle acque E dei servizi Lungo le aree costiere I nomi delle località Premiate Fino al giorno Della cerimonia In programma Roma Sono segretissimi Dei centri costieri Però Già filtrano Le prime indiscrezioni Andiamo Di fondo L'urbanistica Santa Margherita Centro pastorale Per la comunità E poi L'assistenza Medicina E per tutti A Cava Arriva La farmacia Solidale Andiamo A centropagina La cronaca Il Vallo di Diano Protagonista Di un blitz Da parte Dei carabinieri Della compagnia Di Sala Consina Guidati dal capitano Davide Acquaviva Che scovano Una centrale Dello spaccio Così infatti Viene definita Anche nel titolo Centrale dello spaccio Nel casolare In rovina Vallo di Diano Blitz Dopo il delitto Pascuzzo L'arresto Il pusher di Pastena Con la droga In casa E lasciamo Questa prima Questa pagina La prima pagina Del mattino di Salerno Per andare Proprio Sulla pagina Dedicata Alla cronaca Dove troviamo Possiamo approfondire Quindi il tema Legato a questi Arresti Appena effettuati Nella giornata Di ieri Dai carabinieri Della compagnia Di Sala Consilina Vediamo Il titolo L'operazione Centrale di spaccio Nel casolare In campagna Irruzione Dei carabinieri Nell'edificio Semidiroccato A Padula Era un laboratorio Per confezionare Le dosi Blitz Dopo l'appostamento Due giovani Di 18 e 20 anni Finiscono Ai domiciliari Andiamo a leggere Una parte Dell'articolo Pasquale Di Pasquale Una volta arrivato Una volta arrivato Il momento opportuno E scattata L'irruzione Le manette Per due Giovanissimi Ragazzi Di 18 e 20 anni Di Padula Nella notte Tra sabato E ieri E domenica E i carabinieri Della compagnia Di sala consiglia Diretti al capitano Davide Acquaviva Hanno quindi Arrestato I due giovani Per detenzione I fini di spaccio Di sostanza Stupefacente Sequestrando Peraltro Anche un fabbricato Allestito Al laboratorio Di preparazione E ripartizione Della droga Lo scenario Controlli Intensificati Nel Vallo di Diano Dopo L'omicidio Pasquuzzo Andiamo avanti Sempre sul tema Legato Allo spaccio Di sostanza Stupefacente Ancora un arresto Droga Nascosta In casa In manette Il pusher Di pasta E una perquisizione In via Martiri D'Ungheria Trovati 500 grammi Di ascice Marihuana Sequestrati 3.400 euro Segnalato Alla prefettura Un cliente Del 25enne Poi vediamo Nell'immagine Il sequestro Il materiale Sequestrato Con la droga E il denaro Da parte Dei carabinieri Continuiamo Sempre su questa pagina Sempre sulla cronaca Lasciamo il tema Legato allo spaccio E all'uso Di sostanza Stupefacente Nel territorio Salernitano E ancora Un caso Di incidente Stradale Vediamo Tamponamento A catena Sulla statale 18 4 i feriti L'impatto Due ragazzi In ospedale Traffico in tilt Dopo le 19 Sull'arteria A rischio Di taglio Di taglio basso Ci spostiamo A battipaglia Perde il controllo Del trattore Salvo per miracolo L'agricoltore Trentenne Finisce in una Scarpata Di 30 metri Arruggi Trauma cranico E frattura Della gamba Ricoverato Un prognosi Riservata E lasciamo Questa pagina Di cronaca Andiamo ora A Salerno Per parlare Invece Del caso Della movida L'abbiamo visto Anche dalla Prima pagina Infatti Che è stato Il tema Di apertura Ombrelloni E sedie Hanno invaso Il centro storico Di Salerno Ed è rivolta Per i cittadini Anche preoccupati Per l'incolumità Infatti Parlano prevalentemente Della mancanza Di sicurezza E della mancanza Dello spazio necessario Per poter Essere Per poter Consentire Ad un'ambulanza Di transitare E vediamo Il titolo La sicurezza L'allarme Prigionieri Della movida Rivolta Nel centro storico Tavolino selvaggio E invasione Bloccati Pedoni E auto Qui Non passano Neanche Le ambulanze Di taglio Basso Invece Lucida Artista Atti Al setaccio Della Corte Dei Conti Dossier acquisiti Al comune Sulle ultime Cinque edizioni Ma non c'è Alcun Indagato E su questa pagina Dedicata a Salerno Ci fermiamo Per una breve Pausa pubblicitaria Riprenderemo Tra pochissimo Con il resto Dei nostri quotidiani Restate con noi Bentornati alla seconda parte Della nostra rassegna stampa Andiamo sul quotidiano La città Il titolo di apertura Lungomare Est Veduta Sul Degrado Subito dopo La foce Dell'Irno Dell'Irno Da Torrione A Mercatello Marciapiedi Dissestati E verde incolto L'appello al sindaco Di qualificazione Sistemazione Ex Arenella Beach E aree giostrine Di taglio alto Nei box baronissi Troga il contante Impazziscono E poi invece Salerno Le fonderie Tutela salute Ma senza Partiti del no Per le notizie Invece di Spalla Lo sport Con la Salernitana Lotta salvezza Ora i Granata Hanno paura Questo per la Salernitana In Serie A Invece anche la città Parla del risultato Della gara Della sfida Scudetto Di ieri sera A Torino Il Napoli Batte la Juventus Per 1-0 Al novantesimo Con un gol Di Caliduc Coulibaly Vediamo Gli azzurri Fanno il colpo Con la Juve E in Serie D La Nocerina Appari molto amaro Cavese Show Andiamo di taglio basso La ricerca scientifica Longevità Cilento Nuovi studi Il progetto promosso Dall'Università di San Diego In California E poi Carta straccia Le ricette raccolte Dal Monaco Celestino Questa è la prima pagina Del quotidiano La città Ora andiamo ad approfondire Alcuni temi In particolare Andiamo sulle pagine Del Cilento E del Vallo di Diano Dove troviamo Sia il caso Dell'emergenza smog A Battipaglia L'abbiamo appena visto Anche dalla prima pagina Vediamo Emergenza smog A Battipaglia Livelli sforati Appello al comune L'unica centralina Piazzata Sul ponte del Tusciano Ha registrato Tre picchi Su sei giorni Di rilevamenti Gli ambientalisti Sollecitano La sindaca Occorre un nuovo apparecchio E la zona A traffico limitato In via Mazzini A Eboli Invece Un trattore Si ribalta Un operaio Finisce Nella scarpata Ci spostiamo Sulle pagine Del Vallo di Diano E del Cilento In apertura Troviamo Il caso di Cronaco Con l'ennesima operazione Da parte dei carabinieri Della compagnia Di Sala Consilina Che hanno individuato Un locale Un casolare In campagna A Padula Dove veniva lavorata La droga Per poi essere Distribuita Vediamo Scoperta Casa della droga Due giovani Finiti in manette Blizzi In un casolare Di campagna Dove venivano Confezionate Le dosi I ragazzi Di 18 e 20 anni Sono stati trovati Con 140 grammi Di sostanza Stupefacente Da parte Degli uomini Del capitano Davide Acquaviva Andiamo A centropagina Cilentani Longevi Anche questa notizia L'abbiamo visto In prima pagina Uno studio Dirà perché Partita la seconda fase Del progetto di ricerca Promosso dagli atenei Di San Diego Roma E Malmo Ad Agropoli Invece Di spalla Raid Vandalico Danneggiato Il palazzetto Impastato Infine Di taglio basso Si parla Del grande successo Del Monte Bruno Day Di sabato scorso Nel corso del quale Sono stati presentati Anche i risultati Dell'anno appena trascorso Un anno stupefacente Nonostante la novità Dell'arrivo Della banca Anche nel Salernitano E precisamente Nella Valle dell'Irno Con l'apertura Anche di una filiale A Salerno Vediamo Grande successo Per il Monte Bruno Day Questo Il titolo Che la città Dà all'argomento Ricordiamo Nella mattinata L'assemblea Dei soci In cui sono stati Approvati I dati Del bilancio Con oltre 3 milioni Di utile E poi Anche L'assemblea Straordinaria Per la modifica Di statuto E regolamento Delle assemblee Lasciamo La pagina Le pagine Del quotidiano La città Per andare Ora invece Sulle cronache Vediamo quali sono i principali argomenti Partendo dalla prima pagina Si parla Dell'aeroporto Costa D'Amalfi In apertura Rubare l'aereo Si può Un duro reportage Mette a nudo Le pecche Dello scalo salernitano Nonostante I soldi Spesi Oltre alla mancanza Di voli Mancano i controlli Perfino Portare via I mezzi Parcheggiati Questa è l'inchiesta Sullo Costa D'Amalfi Andiamo avanti Soldi E non opere di bene Fedeli Invitati a pagare Per la nuova chiesa Santa Margherita Don Sabatino Diffonde Il tariffario Dopo la chiesa Del Galiziano Un altro complesso In via Cantarella Andiamo a Campagna Lembo Infiamma la piazza E attacca Naimole Pontefaiano Idee Di pastore A Pellezzano Pisapia Contro i cantastorie A Baronissi Fuga d'amore A lieto fine Per due giovani Ancora Il prete pedofilo Deve fare sesso Con me E Dio Che lo vuole Continuiamo Voti La tariffa Della camorra Il pentito spinelli I politici Pagavano dai 20 Ai 30 euro Sistema scafati L'ex socio di Zagaria Fa i nomi Delle ditte Dei casalesi Andiamo ancora A Salerno In casa Aveva mezzo chilo Di droga Preso un pusher 25enne Mentre per quanto riguarda Invece le notizie sportive Il cronache Si dedica Alla serie C Nocerina Derby di traverso Gelbison Blocca la promozione Dei molossi La cavese Non fa sconti Al gragnano Male La paganese Sconfitta In casa Andiamo nelle pagine interne Parliamo del titolo di apertura Quello dedicato Al Costa D'Amalfi L'inchiesta Del quotidiano Le cronache Mamma Mi hanno rubato L'aereo La sicurezza Resta un colabrodo Attraverso un cancello Si può arrivare Indisturbati Sulla pista Di atterraggio Reportage Sullo stato di abbandono Dello scalo Costa D'Amalfi A fronte Di tanti soldi E promesse La situazione Resta ferma Sempre su questa pagina Parliamo anche di economia Birra A Salerno Il boom di produttori 19 sono aumentati In 5 anni Di 12 nuovi produttori L'analisi è stata condotta Da Union Camere Info Camere Sui dati del registro Delle imprese E poi ancora Internazionalizzazione Sostegno Alle imprese salernitane I fondi Dei 150.000 E 500.000 Euro Dalla BCC Di Acquara Andiamo avanti Per quanto riguarda Invece Le notizie Provenienti Dalla provincia Di Salerno Vediamo Quindi sulla Parte sud Della provincia Di Salerno Partiamo da Buccino Attraverso la storia Il museo archeologico Di Buccino Diversi laboratori Previsti Con i fondi Ricavati Dalla proloco Pervenuti Grazie ai 5 per mille Ancora Avanti Incidente a Grezzano Un agricoltore Cade in una scarpata E viene soccorso In elicottero Ricoverato a Ruggi E ha riportato Un trauma cranico E diverse fratture Ad Agropoli La Gioama Club Catania Protagonista nel Cilento Mentre accentola Cinque progetti Per la messa in sicurezza Delle scuole Buone notizie Anche per il castello Di San Severino Nelle pagine successive Quelle dedicate al Vallo di Diano E dal Cilento Ancora In apertura Andiamo a Camerota Documento scottante Sul progetto Depuratore dal consigliere Laiano Una lunga lettera In consiglio comunale Per alcuni chiarimenti Su presunte difformità Si sta sottovalutando La portata Delle modifiche Che potrebbero Compromettere Il finanziamento Andiamo avanti A Padula Scoperto un centro Per la preparazione Della droga Sono due giovanissimi Gli arrestati Ricordiamo 18 e 20 anni Due ragazzi Fermati dai carabinieri E poi Ancora Il fatto Scomparsi alcuni ponti Della linea ferroviaria Parla Il comitato Per la riattivazione Della Siciliano Lago Negro È uno schifo Rocco Panetta Nessuna ordinanza Per l'abbattimento Dei punti Ancora Anche Le cronache Parla Della giornata Dedicata Alla Banca Monte Bruno Un giorno importante Il direttore Albanese È un anno difficile È un anno difficile Di grandi cambiamenti Ma anche Di grandi successi Infine Per lo sport Parliamo Della Salernitana Si teme Ora per Questa fine Campionato E vediamo Che per Il quotidiano Le cronache Parla Dei risultati Negativi Ottenuti Alla Rechi Dall'arrivo Di Colantuono Come allenatore Dei Granata Vediamo Salernitana Con Colantuono La Rechi È terra di conquista Le vittorie Di Pescara E Ternana Avvicinano Il Granata Alla zona Playout Distante Ora Soltanto Quattro punti Deficitario Il rendimento Interno Con il tecnico Romano E su questa Notizia Dedicata Alla Salernitana Dopo l'ultimo Risultato Negativo Per la squadra Dei Colantuono Chiudiamo La nostra Rassegna Stampa E vi ricordo Alle 13.45 L'appuntamento Con il nostro TG Grazie per averci seguito Auguro a tutti Una buona giornata